E' il girone d'andata delle occasioni perse e delle recriminazioni per la Fidelis Andrea. Degli Ulivi nell'ultimo match prima del giro di Boa del torneo arriva l'ennesima sconfitta casalinga, la sesta per la precisione, contro un cinico Monopoli che crea quel tanto che basta per mandare in tilt la fragile formazione bianca-azzurra. Occasioni perse e recriminazioni per la Fidelis come quel gol preso a tempo abbondatamente scaduto nel primo tempo sull'ennesima ingenuità della fase difensiva che si ripete anche ad inizio ripresa con la rete che poi deciderà il match. La squadra di Colombo è ora seconda in graduatoria, arriva ad Andrea con un modulo speculare e i bianca-azzurri, il 3-5-2 e con i tre ex dell'incontro tutti in campo, Capitan Piccini, Mezzala di centrocampo e Grandolfo Starita, coppia d'attacco. In casa Fidelis invece Ginestra rilancia in campo la Cassia dal primo minuto in difesa vista anche l'assenza di Alcibiade mentre Bubas e Alberti in avanti con Gaeta nuovamente titolare a centrocampo. Primi minuti bloccati e Fidelis che prova a orchestrare con i suoi centrocampisti Monopoli, sorgnone ma pronto a pungere. Attorno alla mezz'ora la gara però sale di tono, gli ospiti si rendono pericolosi con Starita, ben servito dal tacco di Grandolfo, Dini è attentissimo per ben due volte. La Fidelis invece passa, Alberti tiene bene palla sulla sinistra e cross al centro con i tempi giusti per l'inserimento di Bubas, bravissimo ad anticipare tutti e abbattere Loria da pochi passi. Il vantaggio andriese galvanizza la Fidelis che sfiora anche il raddoppio dopo una bella azione imbastita da Di Noi e conclusa da Nunzella, ma Loria questa volta è bravissimo a deviare tutto in corner. La spinta bianca azzurra si esaurisce e il Monopoli sale di tono nel finale. Starita sfrutta una nuova ingenuità della fase difensiva andriese per trovare il pareggio in pieno recupero, una volontà infatti sbaglia il retropassaggio verso Dini, la sfera termina in calcio d'angolo, sugli sviluppi Mercadante, la calcia forte e potente nel cuore dell'aria, la palla resta lì, è Starita e più lesto di tutti a battere sul primo palo Dini. Il pare a tempo scaduto è l'ennesima ammazzata per una squadra ancora più fragile e che ad inizio ripresa subisce quasi subito il 2-1. Doppio cambio per Colombo che manda in campo Bussagli e Viteritti è proprio il neoentrato numero 21 a concludere a rete dopo neanche 4 minuti di gioco dopo una bella azione di Grandolfo, sfera deviata in corner da Dini. Sui sviluppi del corner però, pala che arriva a Ghiebre, bravo a scodellare al centro un pallone invitante che Bizzotto riesce a colpire di testa tutto solo in aria per battere nuovamente Dini. Proteste della Fidelis per un presunto fallo su di noia da parte di Starita non rilevato dal direttore di gara all'inizio dell'azione ospite. Bubas, nettamente il migliore dei suoi, prova a suonare però la carica con un tiro dal limite che viene deviato in corner dal tocco di Rigio diverse altre potenziali occasioni costruite dai biancazzurri che tuttavia non spaventano più di tanto Loria. Viteritti ci prova direttamente sul calcio di punizione dal limite sfera sul fondo, allo scadere poi arriva anche il secondo giallo per Bubas per una trattenuta ai danni di Bussagli al limite dell'area di rigore gara finita anzitempo per l'attaccante andriese che finisce in anticipo anche il 2021 visto che sarà squalificato nel match contro la Juve Stavia di mercoledì. A tempo abbondantemente scaduto c'è anche un episodio da Moviola in area monopolitana con il cross di Casoli, arpionato da Tulli in anticipo su Bizzotto, attaccante a terra ma per il direttore di gara il signor Cascone di Nocera Inferiore tutto regolare finisce così con il Monopoli che vince ad Andria dopo 5 anni e chiude secondo in classifica il girone d'andata per la Fidelis ancora a ferite da leccare in vista di un fondamentale mercato di riparazione e della difficile trasferta di Castellammare di Stavia per chiudere un 2021 decisamente dai due volti.